Le indagini che hanno portato all'arresto del preside di una scuola di Gran Michele nel Catanese nascono dalla denuncia di una quindicenne, una alunna della scuola diretta proprio dall'uomo. Nel suo racconto ci sono l'insistenza del dirigente scolastico che la convocava ripetutamente in presidenza, gli abbracci, i like su alcune foto pubblicate dalla minorenne sul proprio profilo Instagram. Fino a quando la ragazzina non ne ha potuto più e ha avuto il coraggio di denunciare il dirigente dopo un grave episodio. L'uomo, dopo averla chiamata nel suo afficio ed avere chiuso la porta, le avrebbe chiesto dei bacini, altrimenti ti prendo a morsi, baciandola poi sul collo, non riuscendo sulla bocca, proprio per la reazione della studentessa. Quanto denunciato dalla quindicenne ha dato il via d'urgenza all'indagine che ha consentito di ricostruire un quadro più ampio nel quale altre studentesse minorenni avrebbero patito molestie simili e quale narrate dalla giovane che lo ha denunciato. Questa mattina il preside è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e tentata. Violenza sessuale a seguito delle indagini dei carabinieri coordinate alla procura della Repubblica del Tagirone, l'uomo era stato sospeso dall'incarico già dal giugno scorso. Il quadro si diceva è ben più ampio. Dopo la denuncia della quindicenne, altre sei minorenni hanno raccontato molestie simili. Il preside avrebbe avuto sempre lo stesso modus operandi, avrebbe convocato le studentesse nel proprio ufficio creando una situazione di intimità con le minori con il pretesto di discutere dei loro rendimenti scolastici. Una volta soli diceva loro che le avrebbe sculacciate se non avessero studiato o che le avrebbe prese a morsi, attuando così tentativi di approccio con abbracci, pacche sul sedere, toccando le sue fianchi. In due circostanze l'uomo avrebbe portato durante un abbraccio la mano nelle parti intime, nonché avrebbe posato le sue dita sulle labbra della studentessa dopo averle lui stesso baciate. Tutti episodi avvenuti durante l'anno scolastico, aggravati dalla minore età delle giovani donne nonché dall'aver agito quale pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni di dirigente all'interno di un istituto di istruzione.